oggi il nostro viaggio ci porta in oriente in giappone terra di leggende e credenze ancestrali la protagonista è la yuki ona signora delle nevi e del sol levante la yuki ona letteralmente in giapponese donna della neve è un tipo di yokai una creatura soprannaturale del folclore appunto giapponese la leggenda può variare ma in genere si narra di una donna bellissima pallide dalla pelle bianca vestita di bianco e capelli neri che appare durante le notti nevose alcune versioni della leggenda la dipingono come un essere gentile mentre altri la descrivono come malvagia in alcune storie la yuki ona può essere pericolosa e causare la morte di coloro che incontra spesso congelando le vittime col suo gelito alito in altre versioni può essere descritta come più compassionevole o desiderose di aiutare le persone le leggende e le storie di su yukai compresa la yuki ona sono parte integrante della ricca tradizione folcloristica giapponese e sono state tramandate attraverso generazioni la presenza della yuki ona durante le tormenti di neve il suo aspetto è etero e la mancanza di impronte sulla neve contribuiscono sicuramente a creare un'atmosfera di mistero e terrore nelle leggende che la riguardano il contrasto tra la sua bellezza e l'aspetto spettrale insieme al potere di congelamento attribuito le aggiunge elementi di dramma e pericolo al suo personaggio la ricchezza delle leggende yukai come quella della yuki ona riflette la complessità della cultura giapponese la sua capacità di mescolare elementi di bellezza terrore simbolismo la diversità quindi delle leggende sulla yuki ona è parte integrante della ricchezza del folklore giapponese la varietà nelle storie permette di esplorare diverse sfaccettature del personaggio aggiungendo profondità e complessità la sua figura la dualità poi della sua natura oscillando tra la potenziale violenza e la capacità di risparmiare qualcuno per la sua bellezza contribuisce a creare una figura più intrigante ambivalente queste divergenze nelle leggende possono anche riflettere le interpretazioni culturali e le influenze regionali che si sono sviluppate nel corso del tempo è affascinante notare come la stessa creatura mitologica possa essere rappresentata in modi così contrastanti dando luogo a una vasta gamma di emozioni e reazioni da parte di chi le ascolta o legge queste storie nelle leggende sulla yuki ona che la sua bellezza sia straordinaria al punto da incantare gli uomini questo contrasto tra il suo affascinante aspetto e la sua natura potenzialmente pericolosa aggiungere un elemento di tragedia alle storie la bellezza della yuki ona è spesso descritta come ipnotica è capace di catturare l'attenzione degli uomini mettendoli in una situazione di vulnerabilità quando si trovano nei boschi durante una tempesta di neve questa dualità tra la bellezza seducente e la morte imminente contribuisce a creare un senso di pericolo e fascino intorno al suo personaggio è un tema ricorrente nella mitologia e nelle leggende di molte culture dove la bellezza spesso è associata a forze sovranaturali o eventi tragici la leggenda di yuki ona quindi è una delle storie più note del folklore giapponese la yuki ona è la donna delle nevi e appare durante le tormenti di neve le versioni della leggenda possano variare ma in generale la storia molti elementi comuni vediamo una delle leggende più famose durante una tempesta di neve un viandante si trova smarrito nei boschi di montagna la neve cade fita e il freddo è intenso improvvisamente compare davanti a lui una donna di straordinaria bellezza vestita di bianco con i lunghi capelli neri è la yuki ona la yuki ona affronta il viandante col suo alito gelido congelandolo immediatamente e chiunque venga in contatto con esso in altre versioni e la potrebbe apparire più compassionevole mettendo alla prova il viandante in qualche modo nella storia il destino del viandante può variare alcune versioni narrano della sua morte per congelamento mentre in altre la yuki ona può risparmiare la vita di chi le dimostra gentilezza rispetto in alcuni racconti la yuki ona potrebbe persino innamorarsi del viandante creando un dilemma emotivo perciò come abbiamo visto esistono anche storie in cui la yuki ona si innamora di un uomo e diventa sua moglie ma alla fine rilevando la sua vera natura in altre varianti la yuki ona può apparire a donne incinte o bambini ma la sua interazione con loro può differire in generale la leggenda di yuki ona riflette l'interesse giapponese per il sopranaturale la bellezza e la natura imprevedibile del mondo la figura della yuki ona è diventato un icona nel folcore giapponese rappresentando il connubio tra la meraviglia il terrore nei confronti della natura bene se questo video ti è piaciuto lascia un like un commento e se voi altri video su questo genere fammi sapere ciao